Eccolo, signore e signori, l'abbiamo catturato, siamo riusciti, è un capitano vero e proprio, ce l'abbiamo noi stasera, il capitano top, top è il top, Diego Boys, grandissimo, perché l'agricolo bresciano? Non te la dico perché non posso, bravo, vedo che il capitano capisce tutto, ecco, 1975 Isorella, siete voi? Sì, top, tu sei il capitano di questo gruppo? Sì, però deleggo tutti gli altri, va bene, grande capo, deleggo sempre, grandissimo, ma ci svegli perché ti chiamano il capitano? No, non lo so neanche io, è una vita che ti chiamano così ma non c'è motivo, lo facciamo a chiamare proprio, comunque sei del top, da quello che ho capito siete del top, ok, perfetto, l'agricolo bresciano, poi dopo vi lascio un interrogativo per doppio, guarda lì, guarda lì, fammi una ripresa, quelli, eccoli, quelli sono i tuoi compagni del 1975, ciao ragazzi, ciao, ecco, fantastico, guarda, viva la, e non lo dico, ecco, grande, grande, viva, e non lo dici, bravo, dice solo viva il capitano, bravo, il capitano mi piace che si sa contenere, bravo, allora, salutami tutti i tuoi amici, dai, viva il 75 Isorella, Fantastici, ciao ragazzi!